all'abbonamento no fatto il biglietto si super green pass 35 per cento insomma un po più di difficoltà si segue l'itas come sempre noi come sempre ci siamo si per tempo però tutto regolare non c'è nessun problema esatto si super green pass insomma si riesce a entrare lo stesso a posto grazie difficoltà a entrare o tutto normale no tutto normale abbiamo comprati online qualche giorno fa e basta tutto a posto quando hanno ridotto il 35 per cento ha detto addio ora qua non si va più allo stato adesso non ci hanno detto niente speriamo di no problemi tutti col green pass ben organizzato non avete avuto paura però di qua ci sono figuri siamo super vaccinate su per tutto scusi è la partita da anche il tv ma da più solo sei voluto venire lo stesso assolutamente dal vivo è tutt'altra cosa che la tv e sono a posto e il mio regalo di compleanno perché oggi compie anche gli anni 1000 60 anni sono tanti ma perché qual è il tuo idolo micheletto si